La realtà aumentata e il mondo a 360 gradi sono ormai la moda del momento per quanto riguarda l'universo tecnologico. A tal proposito, riuscirà la Elephone Elecam 360 a offrire una buona qualità a fronte di un prezzo competitivo? Scopriamolo nella nostra video recensione. La Action Cam realizzata da Elephone è caratterizzata da due lenti in grado di catturare immagini e video a 360 gradi. Ma partiamo con ordine. Con un peso di 104 grammi e le dimensioni piuttosto contenute, la Elecam 360 presenta linee morbide e tonteggianti. Lungo la sua superficie, oltre alle due lenti con un raggio visivo di 220 gradi, troviamo altoparlante microfono, un piccolo display per visualizzare lo stato del dispositivo, i tasti per poter interagire con esso affiancati da piccoli LED, un tasto reset utile nel caso l'action camera si blocchi, gli ingressi per il cavo USB-MicroUSB e una microSD fino a 32 GB e, su fondo, l'ingresso compatibile con accessori universali. Le specifiche del device realizzato da Elephone sono di tutto rispetto, soprattutto visto e considerato come i prodotti appartenenti a questa categoria debbano poter contare su componenti performanti per garantire buoni risultati. L'utilizzo dell'action cam è tutto sommato semplice e intuitivo e prevede il solo uso dei tasti e del piccolo display oppure abilitando la connettività Wi-Fi dell'applicazione predisposta, che migliora certamente l'esperienza utente. Sfruttando i comandi presenti sul lato alto, possiamo passare da modalità foto a video, accendere e spegnere il Wi-Fi, avviare e interrompere la registrazione e navigare all'interno delle impostazioni. Fruttando l'applicazione, invece, saremo in grado di visualizzare un'anteprima di ciò che andremo a catturare, permettendoci di eseguire una registrazione più precisa e personalizzata. Piccola nota negativa è la poca immediatezza in fase di condivisione. Prima di poter condividere su Facebook o YouTube foto e video da noi realizzati, dobbiamo necessariamente convertire il tutto nel giusto formato. Tranquilli, tranquilli, abbiamo realizzato una guida dettagliata sul nostro sito che vi aiuterà a farlo. Cliccate sul banner al centro o, se siete da smartphone, trovate il link in descrizione. Qualitativamente parlando, le immagini appaiono molto buone visualizzandole dall'applicazione predefinita, ma caricandola ad esempio su Facebook, i colori mi sono sembrati un po' saturati e l'immagine, nel complesso, mi è sembrata più rumorosa. Tutto ciò, molto probabilmente, è merito della compressione in fase di caricamento e della risoluzione non proprio alta dell'ActionCam. Per vedere il risultato dei video catturati a 360 gradi, cliccate sul banner o sul link in descrizione. Per le immagini, invece, vi rimando alla recensione scritta. In condizioni di scarsa luminosità, poi, gli scatti sono decisamente rumorosi e i video bui, ma con immagini decisamente migliori. L'autonomia della Elephone Elecam 360, grazie alla batteria da 1500 mAh, consente di eseguire una registrazione continua della durata di circa un'ora. Per riprese più lunghe, ovviamente, consiglio l'utilizzo di una powerbank, ma ho notato che dopo la prima mezz'ora il dispositivo diventa veramente bollente, quasi incandescente. Alla luce di quanto visto finora, il prezzo di circa 150€ risulta azzeccato per quello che la cam offre. I prodotti di questa categoria, infatti, presentano giustamente un prezzo decisamente più alto, vista la qualità in grado di offrire, ma l'Elephone Elecam 360 è l'esatto compromesso tra qualità e prezzo in grado di garantire comunque un'ottima esperienza a 360 gradi, senza dover spendere per forza un patrimonio, soprattutto poi se si approfitta di eventuali offerte. Dunque, questa era la Elephone Elecam 360. Trovate ulteriori dettagli nella recensione scritta e nei link in descrizione. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e lasciate un like se il video vi è piaciuto. Noi ci vediamo alla prossima recensione. Ciao ragazzi!